Benvenuti a Radio Design, io sono Simone Fucchi e come sempre sono qui con i miei amichetti del bosco Eleonora e Giacomo per una nuova scintillante puntata di The T Jam, l'unico stavillante podcast radio che vi insegna tutto quello che c'è da sapere sulle copertine di dischi più iconiche di sempre e non solo Come sempre siamo con il nostro caro zio Nicola da Cagliari per recuperare la puntata di lunedì che non abbiamo fatto per colpa sua ovviamente Esatto, ammalato Allora, oggi siamo al top del top Si vola, siamo 130, super strada, si vola Questa è cultura di alto livello Oggi siamo al top perché parliamo di uno dei gruppi, se non il gruppo più famoso probabilmente della storia Ovvero gli One Direction No, ovviamente parlo dei Beatles, i Baccherozzi, le Cucaraccias, le Blatte Scaravone, gli Scaravone, qualsiasi cosa Ma ti chiedo Eleonora, perché praticamente è vissuto sotto un sasso per gli ultimi 60 anni? Chi sono i Beatles? I Beatles non sono assolutamente nessuno Allora, sono stati Bisogna sempre chiedere un pochino dei suspens, di stupidaggine Allora, i Beatles sono stati uno dei gruppi più, come ha detto Simone, più importanti della storia musicale Si sono formati in Inghilterra, a Liverpool, nel 1960 Il gruppo è composto da John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr Che entrò nella formazione a partire dal 1962 al posto del batterista Pete Best Che a sua volta sostituì Stuart Cliff Quello là, quindi Beautiful Scaravone Ok, allora, i Beatles praticamente hanno segnato un'intera epoca della musica, del costume, della moda, del mondo Proprio tutto quanto Furono un vero e proprio fenomeno di comunicazione di massa a livello mondiale Tanto che hanno venduto all'incirca 600 milioni di copie di album singoli in tutto il mondo Quindi diciamo che hanno avuto quasi lo stesso successo delle malattie venere, santo cielo Quindi, veniamo al nome Prima di definirsi come gli Scaravone Dal 1957 il gruppo si faceva conoscere con il nome Quarrymen Lennon era questa scelta, cercheremo di evitarla perché non vogliamo essere cattivi e pessimi Però no, assolutamente Perché se lo stessi chiedendo, The Quarrymen era un nome che si ispirava al nome della scuola che frequentava John Lennon Seriamente? Cioè questa è un'altra domanda esistenziale, ritornando al primo episodio Perché il famoso Silver Surfer, ora perché i Quarrymen? Ditecelo per favore, se c'è qualcuno che passa che ce lo sa dire, ditecelo Il nome Beatles quindi venne adottato a partire dal 60 Però le sue origini ovviamente sono molto controversa, a noi tutto ciò piace Comunque a quanto pare è stato il nostro amico Stu a proporre il nome Prendendo esempio dal gruppo di Buddy Holly, i crickets, cioè i? I gridli Ormai tu oggi sei tipo un insettolo Sono intomolo oggi Comunque altri dicono che questo nome nasca dopo la visione sempre il nostro caro amico Stu del film The Wild One Però a noi sinceramente di quale di queste mille mila versioni sia quella reale non ce ne frega niente E non lo sapremo mai Però sappiamo con certezza che a Stu gli piacevano i mitici Bach e Rozzi Mentre dal punto di vista artistico i nostri amici Favolosi Quattro Hanno fatto delle cose ovviamente altrettanto favolose e estremamente fatate Prendendo in esempio il loro stile musicale Che era appunto un bellissimo minestrone glitteranti di varie influenze Tra cui il rock and roll, il blues, lo stile Motown e lo schifo Io non lo so, mi dispiace, non imparerò mai a dire un pronuncio per bene Chiedo perdono da adesso per sempre Che era un insieme di country, blues, jazz e folk Quindi proprio tutto, tutto, tutto Esatto Nel corso del tempo poi hanno sperimentato anche il favoloso mondo della troca Cioè la psichedelia totale, proprio in ogni ambito, tutti quanti Proprio tutti quanti L'hanno provate tutte insomma Tutte, proprio non c'è, veramente E praticamente queste nuove innovazioni li portarono su un versante stilistico Proprio diverso ai loro primi album Che era tutto, Dio che bello il mondo, Dio Wow 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 E dico era tutto psichedelico, fatti in arcobaleni, non so Cioè è proprio benissimo È ovvio Inoltre una grande innovazione fu Full utilizzare strumenti indiani Cioè io adesso qua, io non commento Voglio neanche saltare questa parte perché non voglio commentare Ma dai, sono bellissimi gli strumenti indiani Capur Assolutamente Però è una cosa molto importante Perché fa appunto il buon Giorgio Che inizia a suonare il sitar E a introdurre queste Dentre gli album Tra cui Il sitar Come tutti sanno Fa drin 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 Fa drin 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 È ovvio Inoltre i Beatles Dato che sono molto importante E noi ci piace molto parlarne Furono dei grandi pioneri Anche nell'ambito dell'innovazione tecnologica Che sfruttarono per registrare Manipolare il suono In un posto bellissimo Che era chiamato Vai Fucchi dillo te Abbey Road Esatto Che fa appunto il regno di queste sperimentazioni E uno dei più famosi studi Di registrazione di Londra Nonché uno dei luoghi Dei più importanti Luoghi di cult di meta di pellegrinaggi per migliaia di fedeli in tutto il mondo, veramente noi partiremo dopodomani per questo viaggio altro che il Vaticano esatto, una scoperta di nostri non so, l'anima no sense pure esatto, mi piace il no sense inoltre la loro identità artistica si esprime proprio in maniera veramente esagerata e fatatissima nella realizzazione delle copertine del loro album che chiunque conosce in questo caso vero Simoncino adorato? ovvio quindi quanti ne hai ascoltati? li conosco tutti a memoria ovviamente cantaci una canzone vai però oggi parliamo soprattutto di un album particolare, ossia il settimo album degli scarafaggi, ossia Revolver che venne pubblicato nel 66 e prodotto dal carissimo George Martin, che non è quello del torno di spade che delusione Revolver, come vi abbiamo spoilerato prima è il primo album dove compaiono influenze psichedeliche e indianeggianti diciamo di questi hippie fricchettoni che erano e viene considerato uno dei pochi dischi capolavori dei Beatles e uno tra gli album più importanti della storia della musica popular l'album in sé fonde le passioni dei quattro scarafaggini che partono dal stile selvatico che c'era McCartney che si appassionava alla musica classica e all'esperimentazione poi compare Harrison che è preso da viaggi mistici e filosofia indiana e invece a Lennon gli piaceva sperimentare piccole dosi di LSD per avere un po' più di fantasia diciamo piccole dosi e infine c'è Ringo che non faceva nulla era sempre lì con sorriso in faccia amorevole simpatico con tutti e dovrebbero prendere tutti esempio da lui che mood e dal miscuglio di tutte queste cose a questo mappazione nasce l'album per quanto invece riguarda la copertina di questo album fantabolante oggi vogliamo altissimo proprio sì Lorenzo questa è stata come prima perché come potete vedere si tratta di una copertina illustrata realizzata da Klaus Hormann altro membro del gruppo nome facilmente pronunciabili amico d'anno tra di vita ovviamente perché le ponze sono sempre presenti l'ispirazione per l'artwork gli venne fornita su un piatto d'argento da Baccherozzi stessi che gli permissero di ascoltare l'album in fase di registrazione 10 punti fatta per la generosità a far accendere la lampadina magica Klaus fu la traccia finale dell'album Tomorrow Nero Knows ma sta pronuncia che vi la dare ma scusate tu la conosci vero ovvio mix di psichedelia innovazione sperimentazione e suoni indiani di cui ci faranno imitazione fantastica Eleonora Klaus in questo caso usa penna ed inchiostro nero per realizzare i ritratti dei volti di Paul John Ringo e George posti ai quattro lati della cover lo scopo di Klaus con questi ritratti era quello di mettere in evidenza il tratto distintivo dei Beatles ovvero i capelli praticamente uno spot della Pantenne i disegni vennero affiancati invece da un collage di ritaghi di giornale e di fotografie realizzati da Bob Whittaker la scala cromatica invece come abbiamo detto prima ruota intorno a due colori ovvero il bianco e il nero che per l'epoca era totalmente rivoluzionale dei pazzi escadenati perché in quel periodo le cover degli album erano un purpurri di colori e brillantini tipo una puntata delle Winx per tutti quelli che non sono orbi come me invece è inoltre possibile scorgere l'autocitazione dell'artista in un angolino a destra tra i capelli di Harrison e sotto le labbra di Lennon dove appunto Klaus inserisce una sua immagine e la sua firma ovvero ovvero Klaus o Wormann proprio c'aveva paura di non so di far si conosce proprio piccolino piccolino mentre per quanto riguarda il titolo dell'album che appunto Revolver è tutto basato su un gioco di parole che è riferito al revolver come tipo di pistola e al movimento rotatorio del disco sul piatto del giradisc che in inglese è chiamato revolving quindi torniamo un attimo dentro allora la scelta del titolo fu un'impesa molto ardua come era stata all'epoca la scelta del nome dato che ripeto a noi ci piacciono le cose più complicate del mondo all'inizio teniamoci forti venne proposto abracadabra c'è veramente che magia che bello il mondo è un posto meraviglioso non c'è niente a piangere per quanto è bella abracadabra però purtroppo questa magica magiosa era già stata usata da un'altra band e dopo svariate proposte tra cui noi ne citeremo un'altra che è veramente non lo so la fantascienza pura che era Beatles on Safari fu il buon Paolo McCartney a scegliere il nome Revolver a stabilire l'equilibrio universale tra la band e il mondo proprio totale pace dei sensi e per parlare di tutte queste opere che hanno fatto i scarafaggi non ci riusciamo a dirle tutte perché questa puntata anche oggi è finita ma se volete potete seguirci sui social potete trovare storie pertinenti al al nostro programma pubblicheremo sondaggi e tutte quelle cose per le domande che non so come si chiamano quindi seguitici interagite con noi come per essere voi stessi protagonisti del nostro fantaboloso podcast e fateci diventare degli imprenditori digitali di successo come la Ferragni vogliamo i followers seguiteci likes e quindi niente ancora già abbiamo fatto che triste ma è durata poco cavolo ma parliamo un po' di cazzate come stai Nicola raccontaci su dai com'è tutta posta no scherziamo non frega un cazzo nessuno quindi vi salutiamo e vi diamo appuntamento la prossima puntata sempre lunedì sempre alle 5 non come oggi che è mercoledì ma lunedì alle 5 con il nostro teuccio tutto quanto ciao alla prossima bye